Buongiorno signore, io sono Mr. Lul e oggi parliamo di tre argomenti spinosi, ma che dico, spinosissimi. Ripresa dei licenziamenti, proroga dei contratti a termine e truffa social IMSS. Partiamo! Nuova truffa segnalata dall'IMS continua infatti il solito tentativo di furto credenziali e dati sensibili attraverso mail di phishing. Ignorate sempre tutte le mail che vi invitano a cliccare su un link per ottenere il pagamento di bonus e sbloccare rimborsi, reddito di cittadinanza, eccetera. Infatti l'IMS non invia mai e poi mai comunicazioni contenenti link cliccabili, ma anche i social possono essere molto molto pericolosi. Mi avete segnalato proprio voi persone su Instagram, Facebook e altre piattaforme che si spacciano per funzionari dell'istituto e dietro pagamento ricarica post e pay promettono ovviamente di sbloccare e velocizzare le vostre pratiche. Tutto falso? State attenti! Licenziamenti. Da 17 marzo al 17 agosto è stato previsto il blocco dei licenziamenti per motivi economici. Con il decreto di agosto scatta una proroga ma solo parziale del divieto legata alla fruizione delle ulteriori 18 settimane di cassa covid o ai 4 mesi di esonero contributivo. Potete quindi vedere qui accanto i casi espliciti in cui invece è possibile per il datore di lavoro procedere al licenziamento. Passiamo ora ai contratti a termine. In tanti mi avete fatto richiesta nei commenti di parlarne. Bene, fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile rinnovare o prorogare un contratto a tempo determinato per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi senza inserire le famose causali impossibili previste dal decreto dignità e questo vale anche per i lavoratori somministrati. Il decreto di agosto poi ha cancellato anche quella norma controversa che prevedeva la proroga automatica dei contratti per un periodo pari alla durata della sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza sanitaria. Detto questo io come al solito, indovinate un po', vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.